Buonasera amici, allora, non mi sono fatta sentire tutto il giorno perché stavo, esatto, l'avete già detto voi, studiando, lo studio procede molto a rilento, non bene, però parliamo di altro, domani vado in università in presenza, giusto perché continuerò a tediarvi con le storie dell'università, so che non ce la fate più, non mi sopportate più, però mi dispiace, parlerò di questo, e in realtà stavo sistemando un po' l'armadio perché, non so come vestirmi domani, perché giustamente le grandi spendimenti come me, al posto di mettere giù un piano di studi funzionale, funzionante e soprattutto proficuo per studiare così tante pagine e non rimanere indietro come sto facendo, e poi iniziano come vestirsi l'indomani perché l'abito non fa il mole, ma comunque purtroppo lo fa, quindi mi devo vestire da brava scolaretta e almeno sembra che io studi un po', sto dicendo una serie di cagate, scusate. La faccio completamente a palla, ma questo è un altro discorso, devo avvisarvi di una cosa, l'orario dell'uscita del video cambia perché pensavo di essere a casa per le 3 ma tanto non ce la farò mai, quindi il video di domani uscirà alle 18.